Ciao ragazzi, un saluto dell'Interista tedesco. Allora, Samoa all'Inter, un Juventino all'Inter, mamma mia. Prima di tutto vorrei aprire una piccola parentesi. Allora, ci sono tanti youtuber che fanno dei video dove leggono praticamente le notizie, leggono quello che c'è scritto su ogni giornale, ogni app. Qualche volta perfino vadono e aprono l'app, no? E leggono un articolo, poi dicono Forza Inter, ammala, e chiudono il video. Ma non ci hanno niente di personale, non dicono la loro opinione, questo a me non mi piace. Io penso che ci sta. Anch'io voglio sempre tenervi aggiornati, faccio le news, tutte queste cose. Però dopo una piccola introduzione, dopo l'inizio, dove anch'io presento i dati, quello che è successo, ma quello che io lo so, voi tutti avete i cellulari, voi tutti avete i app, voi già lo sapete, già lo sapete. Perciò dopo questa piccola introduzione, io do sempre qualcosa del mio, dico la mia opinione, forse certe volte anche controcorrente, faccio qualcosa da ribelle, mi becco anche gli insulti, però non fa niente, perché uno che sta su YouTube, uno che apre un canale su YouTube, nella mia opinione dovrebbe anche dire un po' la sua opinione. A me non mi piacciono quelli che praticamente leggono un articolo e basta. Io mi sento quasi un po' preso per il culo, perché significa, che cazzo significa? Che sono scemo, non posso leggere anch'io gli articoli. Ripeto, quelli che leggono gli articoli e poi vadano oltre, aggiungono qualcosa, un pensiero, qualcosa, ci sta, ci sta. Ma quelli che veramente leggono solo gli articoli, proprio noioso, e poi chiudono il video, ma che cazzo significa? Ma che cazzo significa? Ragazzi, chiusa questa parentesi, anch'io adesso comincerò con una piccola introduzione, vi dirò le cose che voi forse già le sapete, però è necessario per poi continuare con la parte interessante. Allora, Asamu all'Inter si sapeva già, gli scadeva il contratto, accordo raggiunto, era già raggiunto da tempo, adesso Alecria ha dato 4 giorni di riposo ai suoi ragazzi, ai giocatori della Juventus, Asamu a perciò, in questi giorni libri, adesso è venuto a Milano, vicino a Milano, visite mediche, arriverà all'Inter a parametro 0, 3,5 milioni all'anno, sono cifre normali per un giocatore di questo tipo. Allora, prima di tutto, io leggo spesso adesso nei social, oh, abbiamo preso un Juventino, noi un Juventino non lo vogliamo vedere nell'Inter, ragazzi se mi conoscete, conoscete anche la mia opinione, da bambino, io avevo un'altra visione di calcio, avevo un altro modo come vedevo il calcio, io veramente amavo i singoli giocatori, per me c'era una glorificazione per questi giocatori, adesso io ovviamente sono cambiato, ho capito, dopo tantissime delusioni, sono maturato, adesso ho 23 anni, perciò adesso lo capisco, che questi giocatori lavorano, per loro è un lavoro, diciamo su 100 forse c'è uno, se sei fortunato ci sono due che ci tengono la maglia, ma la maggiorità dei giocatori per loro è un lavoro, e potete prendere penso anche il 90% dei giocatori dell'Inter, se gli dai un contratto meglio, un progetto meglio, un ingaggio meglio, quelli vanno in qualsiasi squadra del mondo, questo è la realtà, perciò noi facciamo queste glorificazioni, amiamo i nostri colori e basta, perciò io anche le magliette non le prendo più con il giocatore, metto il mio nome, perché lo so ragazzi, per esempio Ronaldo, fenomeno, forse quando parliamo di talento è stato il giocatore, quello brasiliano, quello dell'Inter, quando parliamo di talento fosse il giocatore più forte da sempre, ha giocato per l'Inter, Milan, Real Madrid, Barcelona, non devo più aggiungere niente ragazzi, quello se ne sfotta di maglie, di colori, di qualcosa del genere, perciò ci può anche stare, può anche venire uno dalla Juventus, che me ne frega, io voglio solo una cosa, che l'Inter ha successo, perché l'Inter è di più, l'Inter è un concetto, l'Inter sta in alto, è una filosofia, l'Inter è veramente di più, i singoli giocatori non me ne fregano niente, anche questo cansello, se se ne vuole andare, vattene via, vaffanculo, se vuoi rimanere, e puoi dare un contributo al successo dell'Inter, rimani, ma se te ne vuoi andare via, vai via, e se viene Asamoa, viene Asamoa, non mi frega niente che prima ho giocato nella Juventus, questa è la mia opinione, è come se prendo un aereo, se il pilota è giuventino, milanista, interista, mi frega poco, mi frega poco, voglio che lui mi porta da A a B, punto e basta, i giocatori ci devono portare in Champions, ci devono portare a vincere qualche partita, questo lo devono fare, poi, se amano i nostri colori, ok, è una cosa bella, ma è una cosa molto molto rara, perciò andiamo piano adesso a insultare Asamoa, così, perché Asamoa è un giocatore molto molto utile, ragazzi, tanta esperienza, fisicamente fortissimo, come tutti gli africani, tutti no, ma tanti, anche io, cazzo, avevo un amico africano, che ha fatto la box, un fisico così, muscoli veramente, six pack, io ho detto, cazzo, ma tu ti alleni ogni giorno, che dieta fai, l'ho chiesto, lui ho detto, no, io faccio niente, non faceva niente, così, di natura, era già forte, perciò anche Asamoa, fisicamente veramente forte, molto robusto, forte in marcatura, tecnica, diciamo, buona, buona, non come Cancelo, Cancelo veramente, tecnicamente, ancora più forte, diciamo, di tipo di giocatore, Asamoa, è un po' come D'Ambrosio, però di un altro di livello, è più, più forte, ma di tipo di giocatore, di terzino, gioca un po' più come D'Ambrosio, molto forte, difensiva, in fase offensiva, un po' più, scarso, un giocatore molto, molto intelligente, si sposta sempre, in maniera perfetta, si sposta con la difesa, come si deve fare, questo ovviamente, anche merito dal Juventus, lo dobbiamo ammettere, che lì c'è veramente, una scuola tattica, molto, molto forte, con tutta la rivalità, questo uno lo deve ammettere, sicuro nei passaggi, nei cross, un po' di meno, un po' di meno, però sono molto, molto meglio, di quelli che fa un D'Ambrosio, ragazzi, un rinforzo, molto utile, a parametro zero, ne sono sicuro, che ci c'erano altre squadre italiane, perché ditemi una squadra, che non avrebbe bisogno, di un Asamoa, ditemi una squadra, un giocatore così flessibile, può giocare, è un'ala sinistra, ma in basso, in alto, può giocare come, può giocare in mediana, può giocare, può, può perfino giocare come trequartista, ne sono sicuro, un giocatore, iper flessibile, veramente, iper flessibile, perciò, io ovviamente, spero che giocherà come terzino sinistro, che finalmente, questo incubo, deve finire, non posso più vedere, D'Ambrosio a sinistra, Dalbertac, Nagatomo, Santon, veramente, questo incubo, deve finire, non è quel fuoriclasse, quel fenomeno, però è un giocatore solito, un giocatore pronto, un giocatore che conosce la serie A, dove, veramente sai, dove puoi dormire la sera, dove sai, quello darà, farà, il suo, e perciò, sono, veramente, contento, veramente, De Vrij, e Asamoah, due acquisti, veramente, ottimi, funzionali, e De Vrij, anche più di funzionale, che, ho fatto un video, su De Vrij, che mi piace, veramente, un sacco, perciò, sono contento, ragazzi, scrivetelo nei commenti, voi, cosa ne pensate, e scrivetelo, per voi, è un problema, chi ha giocato nella Rubentos, sì o no, arrivate adesso, se lui arriva a Milano, con il disaffittante, o no, ditelo, scrivetelo nei commenti, a me personalmente, mi frega poco, perché io voglio il bene dell'Inter, e alla fine, chi gioca, non mi frega un cazzo, ciao ragazzi, un saluto dall'Interista tedesco, non mi frega, Grazie.